oh caci tu va tu cazzo ci ha messo Marzia questa devi pagare però eh tieni Simone da che devo andare che c'è il negozio aperto falla che è? simone falla parecchia ma qua sei qua falla qua come a noi ho qua falla oh sattuori ma che è? caspe guardate un'altra volta oh un'altra volta oh 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 ma carota ma l'imortaccio questa è nuova eh 300 euro ci ho messo che ci hai messo? 300 euro mezz'ora che giochi ci hai messo 300 euro ah simone ma guarda che casino guarda che casino guarda che casino ma che ti do 300 euro? parmi piacere che cazzo fai oh che cazzo stiamo uscendo fermate ma che fai che 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 li do che li do sta fermo sta fermo ma che cia oggi questo? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti